Prima regola Voi costruite una fortezza e noi la attacchiamo Seconda regola Chi conquista la fortezza entro la fine delle vacanze vince Terza regola La battaglia inizia domani alle 9 in punto Evviva! È arrivata l'ora! Fuoco! Dovreste migliorare il vostro giro Se volete la guerra, guerra sia! Oh oh, qui si mette molto male All'attacco! È un'imbuscata! Corico! Sei brava? Certo Ma parlare con i nemici non era vietato? Tutto tranquillo sul fronte est Anche su questo fronte Scusate in ritardo Cleo ha avuto un incidente Siamo smacciati! Se restituisci la fortezza Si potrà fare un ultimo attacco Sì, certo Sul campo di battaglia! E va! Palle di neve La bandiera del nemico Puoi annusare? Dal 24 novembre al cinema Il tema O è quello che vedrà Per esempio Che vedrà Il tema Il tema Il tema Grazie a tutti.